come fate a nominare che è venuto dopo Natale? ci ha portato un regalo e abbiamo fatto un discorsione e io dopo Natale mi ha chiesto di voi mi ha detto ma quei pisciolini la come vanno lì a Riccione quella bella piscinacata e io gli ho detto vanno bene vanno bene stanno diventando sempre più grandi ma sono bravi? si sono bravi guardate un po cosa mi ha dato Babbo Natale un regalo speciale per tutti i pisciolini di Exis da Babbo Natale facciamoci un applauso di Babbo Natale facciamoci un regalo eeeeh chiudica pesciolini dai andiamo a sentare con uno tappettone si vai macchinine motore battiamo i piedi il mondo casca il mondo casca il mare tutti giù a Natale buone 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 ciao 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 Grazie a tutti